Buonasera, grazie per le tue informazioni molto utili. Ho una domanda da fare. Sono il proprietario di una casa con un palazzo di sei inquilini e la legge dice che ci vogliono otto inquilini per l'amministratore condominiale. Io voglio togliere l'amministratore perché non è una persona chiara. Come posso fare? Grazie per la tua risposta. Grazie a te per la domanda. Allora, come hai detto tu, secondo l'articolo 1129 del Codice Civile, l'amministratore di condominio deve essere nominato in presenza di un numero di condomini superiore a otto. Nel tuo caso quindi non è necessario l'amministratore e può essere rimosso tramite una delibera dell'assemblea dei condomini con la presenza di almeno 500 millesimi di proprietà e la maggioranza dei presenti. In ogni caso un terzo dei proprietari. Attenzione però perché una volta rimosso l'amministratore è necessario individuare una figura che svolga le funzioni di mandatario dei condomini e che sia responsabile della gestione dell'edificio. Questa persona che prende il nome di rappresentante facente funzioni deve essere nominata con la maggioranza dei presenti in assemblea e deve rappresentare almeno la metà dei millesimi di proprietà del condominio. Non ha però tutti i poteri di un amministratore quindi sebbene debba occuparsi di pagare i fornitori, incassare le quote eccetera, non ha la rappresentanza sostanziale e processuale dei condomini, non ha autorità su spese non urgenti e non può agire o difendersi in giudizio in modo indipendente. Detto questo non è però necessario che tutte le mansioni siano affidate sempre alla stessa persona ma i residenti del condominio possono designare di volta in volta il mandatario più adatto in base alle competenze specifiche e alla disponibilità. Molto bene questo è tutto spero che questo video vi sia utile come sempre vi ringrazio tantissimo per i vostri contributi. Alla prossima!